Decollare! Partiti! In vantaggio Miss Manduro davanti a Val Vibrata, Widenfer, Flora Hart, Regina Mundi, Fata Romana e Dark Angel. Dopo 400 metri di corsa si avvantaggia Miss Manduro davanti a Val Vibrata con all'interno Regina Mundi, seguono Widenfer, Flora Hart, Fata Romana e Dark Angel. Proseguo in vantaggio Miss Manduro davanti a Val Vibrata, Widenfer, Regina Mundi, Flora Hart, Dark Angel e Fata Romana. All'inizio della curva proseguo in vantaggio Miss Manduro davanti a Val Vibrata, Widenfer, Flora Hart, Regina Mundi, Dark Rey e Fata Romana. Poco prima dell'ingresso in dirittura passa Val Vibrata davanti a Miss Manduro, Widenfer e Regina Mundi. I cavalli entrano in dirittura all'interno e Miss Manduro, all'esterno Widenfer con più all'argo Val Vibrata. Seguono Dark Rey, Flora Hart, Regina Mundi e Fata Romana. In leggero vantaggio Val Vibrata attaccata all'esterno da Dark Rey. Seguono Regina Mundi, Widenfer, Flora Hart e Miss Manduro. In vantaggio Val Vibrata davanti a Dark Rey, Widenfer, Regina Mundi e Flora Hart. Prosegue in vantaggio Val Vibrata davanti a Dark Rey e Widenfer e facile Val Vibrata davanti a Dark Rey e Regina Mundi. Val Vibrata, come nel premio Archidamia, mette il suo sigillo a questa prova interessante che fa riapparire le femmine da distanza sulla pista romana ad alto livello, logicamente, e che quindi si prenotano per qualcosa di importante. Un po' sottotono nella circostanza Widenfer, bene Dark Rey, la piazzata intelligente, avevamo detto prima della corsa, e poi Regina Mundi che finisce molto ma molto ma molto bene l'altra piazzata intelligente, che nel tratto conclusivo, vedete, va ad essere insidiosissima nei confronti di Dark Rey, che salva però il secondo posto. È tutto!